Sarebbe alquanto paradossale, oltre che contrario ad ogni forma di umanità e di giustizia, che l'imputato debba essere punito per aver coltivato piante di cannabis con l'unico scopo di tutelare la propria salute e garantirsi in tal modo condizioni di vita più dignitose. Queste le motivazioni della sentenza di assoluzione per Walter De Benedetto. Il giudice del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, lo scorso 27 marzo, aveva infatti dichiarato non colpevole di spaccio il cinquantenne a retino affetto da una grave forma di artrite e reumatoide che aveva deciso di coltivare nel giardino di casa la cannabis ad uso terapeutico. Un'autoproduzione iniziata a causa della cronica carenza di farmaci cannabinoidi utilizzati per lenire almeno in parte i dolori. Una storia che era iniziata oltre due anni fa, il 3 aprile 2019, con il blitz dei carabinieri nell'abitazione di Olmo. Qui i militari trovarono una vera e propria serra adibita alla coltivazione di cannabis. 15 piante alte due metri e mezzo e foglie essiccate capaci di originare 20.000 dosi. Per il giudice comunque il fatto non sussiste perché la coltivazione, pur non essendo autorizzata, non metteva a repentaglio il bene giuridico tutelato, ossia la salute, anzi perseguiva proprio lo scopo opposto dare sollievo ad un uomo costretto sulla sedia a rotelle ed afflitto da dolori lancinanti per il quale le terapie convenzionali non avevano più alcun effetto e la terapia a base di cannabis prescritta agli dei medici non poteva avere corso regolare per insufficiente disponibilità della sostanza. Insomma, sono state accolte le tesi degli avvocati difensori. Su questi presupposti si inserisce la lettura nuova e diversa delle norme incriminatrici che secondo il giudice è necessaria per la peculiarità del caso.